In occasione del settimo anniversario del sisma che il 6 aprile 2009 sconvolse la città di L'Aquila e altri comuni della regione, sono previste nel capoluogo due giornate commemorative. Il 5 con partenza ore 22 dall'altezza via 20 settembre, Palazzo della Giustizia, fiaccolata per L'Aquila. Il giorno dopo una serie di manifestazioni dove partecipa la presidenza del Consiglio è quella delle ore 22. Il 5 alle 11 la Santa Messa ufficiata dal Vescovo dell'Aquila, alle 14.30 start up marcia per L'Aquila con partenza Guardia di Finanza. Intanto i presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome hanno rinnovato il patto di solidarietà che vide le regioni italiane collegialmente impegnate accanto alla sofferenza e al disagio materiale e spirituale delle popolazioni abruzzesi e di quelle di ogni regione segnata da calamità naturali. Già nel giorno 1 e 2 la presenza del Consiglio ha organizzato una plenaria a tutte le regioni d'Italia raccolte all'Aquila dove abbiamo approvato un documento anche che rinnova il patto di solidarietà quando accadono eventi così importanti, ricordando soprattutto il sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 dove tutte le regioni accorsero in segno di solidarietà non solo a parole ma con i fatti. Qui e lì abbiamo invitato anche i presidenti delle altre regioni a voler partecipare il giorno 5 alle ore 22 a questa marcia per l'Aquila. Grazie.